abbiamo terminato la trave è andata molto meglio dell'altra volta e ora ci portiamo al corpo libero dai Niki tranquilla basta penarlo dai ora arriva dai Niki dai ora arriva dai sui Niki grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, fra... La gamba... Fissa le spalle... Grazie a tutti. Abri... 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 E abbiamo terminato anche il volteggio e anche il corpo libero sono andati molto bene. Adesso manca l'ultimo attrezzo, sono le parallele. E la nostra queen, la nostra regina delle parallele dovrà farci vedere che esercizi farà. Dai forzani qui, spingi, 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 dai ora, dai su, dai dai, brava va bene, dai ora, dai ora, dai ora, dai brava, dai vittoria, steggi, stai le gambe, dai ciò, dai ciò, dai ma che vai chiara, dai ciò, dai ora, stai le gambe, Vai Chiara, le gambe, puntalo su, le gambe, le gambe niente. Vai Chiara, brava. Spingi Michi, Michi spingi sulle spalle. Brava, dai. Rekoli. Dai Tenerino. Dai Guida, parta, ho bitoWhat. Sei checca fa. Dai actually stai pan coupé nazi. Dai alla parola, bene grosso ho persa insieme. Fh gotta' do the week, come abbassa vous know what's at ? e con questo esercizio noi abbiamo finito la nostra gara e ora dobbiamo attendere le prime azioni stiamo attendendo loro ciao